...deseggiando però, eh? Oh! Oh! Sì! Oh! Sì! Ciao, come stai? È la luna che ti aspetta, lo sai? Ciao, dove sei? Avevamo appuntamento alle sede Io non ho aspettato nessuno Io non sono come io e qualcuno Ma chi sente guardarmi così? E domanda tu volo conti Ma se non mi accontrava Chissà chi faticava Vabbè, tu ci stai spalla Nessuno d'arte è quale Ma se non mi accontrava Stavida regalata Nessuno d'arte è la luna che ti aspetta Chissà chi non mi accontrava Chissà chi non mi accontrava Chissà chi non mi accontrava Allora vale la pena Aspettare per stare io e te Oh! 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 Cosa fai? Sono pronta a farli aperti o chiamare Oh! 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 Io non ho aspettato nessuno Io non sono come io e qualcuno Ha cambiato i suoi conflitti Per la viola non potresti Ma se non mi accontrava Chissà chi la mi accontrava Vabbè, tu ci stai spalla Nessuno d'arte è quale Ma ci non mi accontrava Stavida regalata Nessuno d'arte è la luna che ti aspetta Non ci vede una madre E se non mi accontravi E poi... Che no? Oh! 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 Stai bene un secondo di nonce di noi Ma si può pensare, ma chi sa che osserva Se tu la stesse, ma cani il tuo vosso Si finisce la matare, allora vale la pena aspettare per stare nel mese All'unità, sei fuori, a te Sì, sì, sì Grazie a tutti. Grazie a tutti.